Fanno una luce Mi avvicino alla finestra Scenario apocalattico e decadente Si staglia a un leogolbo ottico Perennemente accesi Palazzi finalmente riposano sul fianco Mentre il mare si colora di un verde spettrato Mi rendo conto della normalità della rovina Contrapposta alla temporaneità Dell'ordine e del benessere Come si chiama questo pezzo? Post La storia, alias, la storia dell'alieno androide Si, è proprio la notte Ah, proprio, si, aspetta un attimo Vediamo il resto di Claudio Si, le vecchie Io sono un po' carito come quelle là Che si vogliono scopare i morti Le cose, io voglio scopare le vecchie Le vengo sempre qui Eccola qua, guarda Un genotofilo Sempre un geriofilo Ecco qua Allora, va, lettori E non trovo questo lettore E non riuscirò mai Non ci riesco Ah, sì Eh, rignoni barotri Ma un secondo pa l'hai messo C'è ancora sul lettore Il lettore Ah, lettore, lettore 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 Eccolo Che ci affianco a me? Ma questa è una spedizione esplorativa Alla ricerca dell'identità Della sconosciuta Che dipinte del mio Inquiettoso giaciglio Giaciglio Basta Tu sei papo Hai capito che sei papo Claudio Claudio Mi parla 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 Pagate una spedizione esplorativa Claudio Stai so close Non è il problema Mi sei completamente Ma Mi sei completamente Mi sei completamente Ma Mi parla Che ti affianco a me Dimentità Ma Tutto questo Perché ti sei risvegliato In un posto assurdo Con il mio Ma No Non è il mio E' incredibile E' incredibile Non si vede L'acqua Credo che bordello Non è uno stadio Che è Stadio Se io vi sapete Uno qua Uno che Esattamente questo ragazzo qua Si sente male Ha un malone Che sa fa? Una cosa che sicuramente vi piace Che cosa è? Cornstack Non so cosa sia Questo materiale Se lo metti Se lo fai suonare A certa frequenza A certa frequenza Ma è bellissimo A certa frequenza Però diventa un mostro No No Guarda 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 Diventa un mostro Un minuto particolare Su questo lì Non si può camminare Ma si può C'è il ruolo Di fermo E poi Si stanno Nei limiti E invece qua Poi ci stanno Dei fatti strani Che succedono Quando ci passa Tu noti Che quando si fa il buco E ci passa l'aria E senti proprio E senti proprio Il rumore L'aria Che passa attraverso Questa Ma io E se l'ha Lo so E se l'ha E se lo andiamo A prestare Corningspunk Ma se hai mai Tu hai i miei preferiti Miei E ci stanno sono i miei video preferiti si, si se stiano lasciate le disituate no, 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 necessito il silenzio che si rave e la tengo io abbastante miedo, no? però comunque stiamo avanti va bene, va bene, va bene va bene, va bene dovete, va bene, va bene va bene, va bene va bene va bene va bene la mia è capata i colmi di chimica meraviglia tu chi sei? come i due i corridoi si spezzano lingue insessate insensate torno per eoni finché l'universale simbolo di output resta la mia alluminata attenzione e approviva il cesto mi approviva il durante il mio tempo di accettamento e poi togliere la mia missione chiusa 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 la porta è andata l'unico e mi è stato in merito e mi è stato lavorato in letto chiuso l'assommazione sviscia tutto questo mi è da diventare tepore tepore l'avventura diventa ghiaccio e olexo e cosa sta facendo? in quel caso si apre la porta è un altro ancora più vecchio mi guarda lì è un piccolo è un piccolo è un piccolo le risposte di osiglione sono aumentate mi scappano i morti e le gambe le domande risolte mi prendono la mente questo è così semplice come può essere poetico va bene va bene allora questa cosa questa cosa è veramente spettacolare la musica no guarda qua questo è spettacolare cosa sta per succedere? scompare il palloncino e l'acqua per un istante ancora esattamente la forma è veramente è bellissimo l'audio spettacolare spettacolare adesso la cosa è... c'è l'ho c'è tutto il cervello da fuori che cazzo è? questo è il cazzo no non so capire è in gira è tenissimo ciao ciao vai a fare bene belle cose tante cose tante cari cose via sta proprio in momento poi ti puoi incaparlo quindi capito? mi non è sericattabile fino a 15 con questi video ma no 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 è uscita la... è uscita la capocchia è uscita la capocchia è uscita la capocchia è uscita la capocchia sta scendendo oh 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 l'attiva dopo uscita eh 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 la oh